Selai Gaffar è una delle principali figure a livello globale nell'impegno dei diritti umani e della donna. Lei è schierata in Afghanistan come politica e come attivista per i diritti umani. La conosciamo da 20 anni ed è al nostro fianco in un impegno sul territorio afgano nel sostegno a piccoli e grandi progetti che portano avanti la garanzia della salute, dell'istruzione e del futuro di molti bambini e soprattutto donne del paese. In un paese devastato da 40 anni di guerra, dove coloro che hanno subito di più le conseguenze sono stati i giovani, i bambini e la popolazione civile, è necessario che ci sia una scelta di sostenere le forze democratiche, di coloro che amano la libertà e i diritti, perché levino la loro voce contro l'occupazione straniera, il fondamentalismo e la criminalità. Per questo ho scelto la vita politica. Per dare vita a movimenti che un domani si impegnino contro ogni forma di fondamentalismo, Al-Qaeda, talebani, ISIS, sono tutti nemici della libertà delle donne e del potere. Il primo impegno è domenica 22, nella festa annuale con l'Assemblea di Insieme si può col cumano, dalle ore 9 di mattina. L'intervento di Selai Gaffar sarà proprio sul tema del coraggio e sarà un'occasione unica per ascoltare proprio la testimonianza sua personale di alcune scelte di vita che cambiano per sempre un'esistenza e anche quella delle altre persone che da lei tragano ispirazione per cambiare. Altro appuntamento da non perdere, mercoledì sera, 25 settembre, al Cinema Italia, alle ore 21 e 30, la proiezione del film I am the revolution, io sono la rivoluzione, che racconta la storia di tre realtà dove le donne levano la propria voce e si impegnano a rischio della propria vita proprio per portare una rivoluzione positiva nei contesti nei quali esse operano. Grazie a tutti.